Dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che al momento rischia di essere messa a dura prova. Se il governo giallo-verde fa la legge di bilancio in 48 ore al Senato, si va alla Corte Costituzionale, come hanno fatto i colleghi del PD nel 2018. Se lo fa il governo giallo-rosso si sta zitti. Non è possibile. C'è bisogno di un rispetto delle regole, indipendentemente da chi afferma per prassi un principio che pure io condividerei, perché se c'è uno in quest'Aula che è a favore del superamento del bicameralismo sono io. Ma siccome non ci è riuscito, ahimè, oggi il bicameralismo dobbiamo rispettarlo, perché se passa il principio che le riforme costituzionali non servono e basta una prassi, noi stiamo distruggendo quest'Aula, stiamo distruggendo la nostra credibilità, noi e voi insieme. Ecco perché il rispetto delle forme democratiche è importante ed ecco perché, signor Presidente, non smetteremo di chiedere che vi sia il rispetto delle forme in tutti i livelli istituzionali, dall'intelligence, dai servizi segreti fino alle questioni legate a come si fa una legge di bilancio, non è di noi che stiamo parlando, è della nostra credibilità e della vostra credibilità.